Sono 163 i ragazzi e le ragazze di 14 anni appartenenti a 11 squadre toscane di basket che dal 25 marzo al 16 aprile si sono confrontati sui temi dei social network e del cyberbullismo. I risultati del progetto Cresce e Posta sono stati illustrati nella sede della Presidenza della Regione Toscana a Firenze. L'iniziativa, voluta dalla sezione toscana della Federazione Palacanestro Italiana e da Engineering, nasce dall'esperienza lo scorso anno della società Pino Dragons nell'ambito del torneo Brothers and Sisters in Basketball Memorial Pietro e Niccolò Quercetelli quando il progetto fu lanciato. Inserire la possibilità di avere una sperimentazione su come si usano i social inseriti in un quadro di gioco, di divertimento o di sport è un modo anche per avvicinare i giovani e farli avvicinare dai giovani, tenerli in un ambiente che a loro è consono ma nello stesso tempo provare a far arrivare una comunicazione corretta su un tema che purtroppo oggi è all'ordine del giorno. I ragazzi si sono confrontati sulla piattaforma www.cresceeposta.it attraverso i testi e i video con le voci dei giocatori e degli allenatori della Lega Basket. In tre settimane le visite sono stati oltre 6.700 e i commenti 595, le reaction sotto ai post 2861 per gareggiare in una classifica personale e a squadre vinta dalla società Basket Cecina. Lo sport è diventato uno strumento per accentuare questo tipo di richiesta che viene fatta in questo progetto, una richiesta di riflettere, di porre attenzione a quello che si sta facendo. Il problema è relativamente ai social media, relativamente all'uso dello smartphone. Il risultato? Che i ragazzi, se stimolati specialmente in ambito sportivo, riflettono e offrono a loro volta spunti di riflessione. Per esempio? Per esempio scoprire che sul tema della private il 50% dei ragazzi non si fa problemi a sapere che i genitori gli aprono il telefonino e glielo controllano è una notizia. Oppure, per esempio, percepire che i ragazzi hanno la consapevolezza di essere vittime in qualche modo di un eccessivo uso dei social quando stanno soli in casa e che invece si rendono conto perfettamente di poterne fare a meno quando sono con gli amici è un altro elemento che può dare equilibrio. Insomma, il progetto vuole semplicemente aiutare i ragazzi a usare in maniera più consapevole lo smartphone. L'evento conclusivo del progetto si svolgerà l'8 giugno al Palaco Verciano a Firenze.